Siamo ormai alla fine ragazzi, prepariamoci bene per la semifinale e siamo a posto. Attacco contro difesa, Nomad. Quattro aperture, uno sul posto, belle rapide, bing! Cambia veloce, cambia! Cambia! Bene, abbiamo fatto un esercizio di resistenza alla velocità, in cui viene sollecitata anche la forza elastica e la velocità stessa, però deve essere fatta subendo la resistenza alla fatica. Gialli, obiettivo è portare la palla oltre la linea rossa. Rossi, obiettivo è far gol. Girati che siete in apnea! Non potete giocare a calcio! Senza lucidità! Giallo, veloce! Ora! Ora! Sono stato impegnato molto, quindi la stanchezza ti fa sentire, però è abbastanza giusto e corretto perché devo mettere comunque un po' di potenza, visto che non ce l'ho per niente sulle gambe per affrontare la sfida di giovedì al 100%, quindi l'alleamento di oggi è stato un buonissimo alleamento e sono proprio abbastanza felice. Tranne qualche piccolo errore, ma ci serve un alleamento. Grazie a tutti! Grazie a tutti!